Prima raccontavo proprio che grazie a questa occasione di Cast 1, poi Cast 2 e Cast 3 sono diventato l'idolo dei miei figli che mi ascoltano di più adesso. E poi devo dire che l'evoluzione di Cast 3, noi abbiamo visto il film ieri, è spettacolare. Io non ho altre parole da aggiungere perché veramente sono riusciti a fare una storia che non riuscivo a pensarla neanch'io, non so cosa fumano in America, però sono messi bene perché hanno fatto veramente un grandissimo film. Per l'ennesima volta si respira che un campione non può esserlo da solo ma deve avere bisogno degli amici che lo aiutano, quindi la squadra, il gommista, il muletto, i carlatrezzi, la fidanzata che lo incoraggia anche nei momenti difficili. Forse sarà capitato spesso anche a noi di trovarci in un momento della nostra vita dove volevamo rinunciare a tutto perché non ci si sono sentiti più capaci di essere al passo oppure avevamo un po' di ansia, un po' di cose. E trasformare quella cosa ci ha fatto ripartire per nuove strade, nuovi obiettivi. In questo film veramente è a vari livelli, dal bambino all'adulto, leggi, delle cose, sono orgoglione di essere in questo cast.